Oggi è una giornata importante, un altro passo in avanti nel percorso di ascolto che facciamo con i comitati di quartiere di Mofalcone. È un passaggio molto importante perché anche oggi gli spunti e i contributi sono stati importanti, ma soprattutto è stata importante l'occasione per dare degli aggiornamenti significativi su quello che è il tema della qualità dell'area nel Mofalconese, in particolare i temi legati alla centrale. Ci eravamo presi questo impegno di ritornare in tempo contenuto prima appunto della pausa estiva a fare questo tipo di approfondimento e dopo l'incontro avuto anche con i vertici della centrale termoletica 2A penso che era assolutamente opportuno questo passaggio. Abbiamo illustrato alcuni elementi che sono attraverso un supporto informatico già tutti pubblici sul sito di ARPA e ci siamo presi l'impegno anche di ritornare in autunno con un evento pubblico per dare ancora più informazioni e soprattutto per coinvolgere ancora di più i cittadini perché questo è un tema che sta chiaramente molto a cuore a tutti.